Maurizio Malaguti, leggero qui a Turo della Notte su Radio Piombino. Torniamo con il nostro ospite principale qui in trasmissione, l'Enrico Matteuzzi, a tornare a parlare, direi che siamo in finale di trasmissione, la faccia che ci ascoltiamo è di un certo su Pagì, che possiamo dire di questo ragazzo? Ma che a mio meno, nel senso che appunto, come dicevo prima di organizzare le serate, che è nell'organizzazione di cui fa parte, appunto lui ha una più, sono tre ragazzi che cantano, a volte quattro, dipende perché li piglia bene, spende dal lavoro, da un po' di domani sera c'è Stufa G e Spiff Gio, che sono due di questi tre, perché appunto l'altro abita a Berlino e qui insomma non è tanto facile, un po' da cipo, da parte se, guarda che c'è, vado a Londra a parte, hai ragione, non ne ho, c'è, con tutto il rispetto per me, grazie, mi ha abbassato l'audio, il ricassa, il premizio per me lo fischiato, grazie, grazie. E comunque, niente, insomma, il ragazzo appunto che organizza insieme a me, insieme anche altri e che canta, sia lui che è Spiff Gio, che l'altro si chiama Deguet e questa canzone la facciamo sentire anche perché è uscito da poco l'album suo, appunto prima produzione anche della Maggioreg Label e questa è una bella canzone, tra l'altro prodotta da, cioè, diciamo, chi ha mixato il tutto è chi mixa il tutto nelle regge di migliori artisti che ci sono, insomma, quindi è venuta proprio una bella anza. E vogliamo ricordare ancora il programma di... Allora, domani però li devo tutti, però, no, allora, domani c'è, Guido io si letta direttamente da Popolonia Stazione, tra l'altro, da un po' d'anni è... Popolonia Station. Popolonia Station, che da un po' d'anni è iniziato a far sentire reggae qua, da queste parti, diverse aperitivi e serrate. Maddin Tuscany, che è appunto un altro ragazzo di Pionbino che abita a Firenze e che viene domani a far vibrare un po' qui il Sound System, io, io penso un pochino su Nei Rossi non ci sarà troppo da fare, Scratching Sound, che tra l'altro è il, diciamo, quello che gestisce il lago verde, che ormai penso più o meno tutti nella zona conoscano e che è un grande cultore della musica reggae in vinile e quindi verrà anche lui a suonare. Sufagi e Spliff Joe, che appunto cantano reggae e hip-hop, i Miruz Sound System, che sono un gruppo di DJ, reggae e anche loro personati del vinile e che sono ragazzi, tra l'altro, giovani, tutti intorno, sono dei ragazzi del 92-93 e che domani appunto faranno vedere di cosa sono fatti e il Daba Sound System, che è questo sound, che è proprio quello che porta l'impianto, che è proprio il vero Sound System, che è anche lui di Piombino, però diciamo abita a Roma da una vita e ha vissuto a Londra, ha vissuto negli Stati Uniti, ha vissuto un po' da parecchie parti, mi ha avuto l'unione anche di Piombinesi. Bravo, una reunione di tanta gente che è di Piombino ma magari non ci sta e che gli piace questa musica e comunque in qualche modo suonando o cantando mi fa parte e poi appunto brada e calcia che l'abbiamo già sentito prima e che domani dovrebbe spaccare, insomma, se fa come sta sempre e di solito finisce, dice ma è già finita, quindi insomma, a regola dovrebbe... La sua parte dovrebbe fare... Dovrebbe fare bene. E allora ascoltiamoci adesso su Pagini. Ritmo e passione.